Marco Accolla, complimenti, il nuovo segretario dell'Ordine di Milano. Quali sono le priorità in un ruolo così rilevante e strategico? Grazie mille per questa nuova consigliatura. L'obiettivo è di aprire l'ordine, avvicinarlo agli iscritti, dal praticante semplice fino al collega pensionato che ancora frequenta il Tribunale. Un ordine vicino, un ordine aperto, un ordine che tenga in considerazione le esigenze di tutte le categorie dell'avvocatura, dall'avvocato che ha una struttura semplice ai grossi studi organizzati. L'ordine sarà la casa degli avvocati.